Salve a tutti gente sono Alex Pios e oggi come potete vedere non siamo su un gioco Oggi siamo su questa applicazione qua che adesso vi parlerò bene di cosa ho in mente di fare Se già qualcuno sta vedendo questo video e sa già che applicazione è questa e sono contento per voi Invece per chi non lo sapesse questa qua è Periscope Periscope si chiama Questa applicazione ti permette di fare le chat live E io intenzione questo venerdì Leggerete qua nello schermo Questo venerdì alle 10 del mattino Farò una live con tutti chi vuole fare una live con me Io metterone adesso dirò come mi chiamo su Periscope Così mi aggiungete E se mi aggiungete possiamo fare Appena vi ero live vi arriverà la notifica voi Basta che vi aggiungete E boh è semplicissimo come cosa Invece per chi adesso non l'ha ancora scaricata questa applicazione Non sapeva dell'esistenza di questa applicazione come io il mese scorso No Aspettate Tre mesi fa non sapevo dell'esistenza di questa applicazione Bene Io adesso vi faccio vedere innanzitutto come mi chiamo Dovrebbe essere qui No No Dov'è profilo Vedete che sto ancora imparando anch'io ad usarla Quindi è da poco che l'ho scaricata Ah eccolo qua Questo è il mio profilo Per chi volesse Tra l'altro ne ho uno solo Ah follower 5 Cos'è follower sono gente che Ah no Per chi volesse vabbè Non perdiamoci incavolate Per chi volesse aggiungermi Basta che mi cerca Superiscope Con questo nome qua E mi invia la richiesta Cioè mi segua Io Poi vi seguirò anch'io voi Appena mi seguite Io appena avvio qualsiasi chat Live Voi riceverete la notifica Basta che ci cliccate sull'iconcino in alto Che vi viene Della Della live E vi porta direttamente alla live E vi aggiunge Io mentre che parlo Voi potete rispondermi Inviarmi i codici Qualsiasi cosa È una figata assurda St'applicazione Infatti appena l'ho visto Come funzionava Io l'ho L'ho voluta proprio Fare St'alive Perché l'ho provata Ed è divertente Scusate E boh Bene Io adesso Per chi non Non ce l'avesse St'applicazione Vi faccio vedere Tra l'altro Che a me si scarica Lo esco E Voi andate Basta che andate Su Play Store O Apple Store Come cavolo Si chiamano Vabbè Qualsissi cosa Sia Cioè sia per Apple E sia per Per Android Quindi Bene Voi scrivete Questo che vi faccio vedere adesso Scusate Vedi Me la trova subito Scrivete Periscope Periscope E ve la trova subito Voi ci cliccate sopra E tada Beh Io l'ho già installata Quindi Dopo che l'avete installata Se non mi sbaglio Su Android Vi chiede Se non mi sbaglio su Android Vi registrate Vi registrate Non ci bevi Un secondo A scaricarlo Quindi Io Twitter Tra la torcia L'avevo già Ormai i sistemi operativi Cioè I telefoni Ce li hanno già tutti Quindi Bene Io Dopo che l'avete scaricata Aprite Periscope Io ce l'ho qua Aprite Andate su Per cercare le persone Dovete andare L'avevo già fatto Già Aspettate Adesso vi faccio vedere bene Come cercare le persone Perché quel quadrato lì È per avviare la chat E questo Se non mi sbaglio Per trovare le persone Tra l'altro Sono tutte le chat Queste Quindi No Non bisogna cliccare lì Vedete Questi sono Quelli in diretta Ci hanno Cinque persone Lavorate con me Va bene Allora Ah eccolo qua Per cercare le persone Trovate Andate sull'ultimo Fate cerca Scrivete Il mio nome In teoria A me non mi dovrebbe Far trovare Ah sì Mi autotrovo da solo Bene Molto interessante Sta cosa Vabbè però Basta che scrivete quello E mi trovate Sono il primo Mi seguite E poi Venerdì Come ho già detto Alle 10 del mattino Sto venerdì Farò la live Io spero che Sto annuncio Vi sia piaciuto Io Non vedo l'ora Che siate In tanti Mi farebbe molto piacere La chat L'avvierò C'è Il video Scusate E il video Lo avvierò Quando saremo Minimo 5 persone Perché se Sono una persona sola Poveretto Non voglio Fare il video Con una persona sola Se già saremo In 5 Avvierò il video Nel senso Registrerò Come sto facendo adesso Quindi Boh Io spero che Questo video vi sia piaciuto Spero che tu Che stai guardando Ti sia piaciuto Sto video Questa applicazione Me l'ha consigliata Roberto Roberto Veneziano Quello che ho ringraziato Anche nei video Che ringrazio ancora adesso E Spero che vedrai Sto video Tra l'altro L'unico che ho Tra gli amici È proprio lui Quindi Sarà il primo Sicuramente A partecipare Alla live E Boh Tu che stai guardando Scaricalo Voglio fare una live con te Capito Bene Ok Da effetto fare sta cosa Non so perché mai da effetto Bene Spero che sto video vi sia piaciuto Iscrivetevi al canale Lasciate mi piace Soprattutto scaricate per iscop Alla prossima Belli Ciao ciao